Piano Angelo, piano che ci butta addosso eh Questo balcaccio è troppo su Si muove troppo E' lui che sta guidando Ma ci stanno navigando ancora credo Stanno navigando quel motore Occhio Angelo a qualche costata sua e te la butta addosso eh Sono di Pappa 307 della compa maristana Siamo in un po' di Pappa 307 della compa maria Occhio Angelo, ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ok, guarda, guarda, guarda Ponte, guarda, guarda Avanti Si, allora, quando ci ringrazio, ci ringrazio Dove il ritornatore, mi ringrazio, a 1.38 Occhio, vediamo Aggiorniamo strada facendo. Sta male, sta male, tutti e due, rientriamo. Angelo, rientrare. Ok? Ok, ok. Kofi? Kofi? Dai, dai, buona, ottima.